Fiere Zotecniche Internazionali di Cremona, edizione 2021. Siamo qui nell'area Ruminanzia, dove la nostra rivista digitale ha organizzato per il giorno, per venerdì 26 e per il 27 sabato, una serie di eventi di divulgazione, di aggiornamento professionale e di confronto. Siamo qui con la Vetagro, con il responsabile tecnico dei ruminanti a livello globale di Vetagro. Vetagro è un'azienda italiana, di Reggio Emilia, è un'azienda storica, che forse ha avuto l'intuizione, il suo fondatore Gianni Panciroli, più di 30 anni fa, di intuire che per far arrivare dei principi attivi nei ruminanti bisognava proteggerli, proteggerli dal rumine, quindi dalla degradazione del rumine. Mi ricordo all'epoca Panciroli fu anche un po' deriso, non tanto in Italia, dove aveva molti estimatori, compreso il sottoscritto, quanto all'estero, perché sembrava una follia questo di proteggere gli additivi destinati ai ruminanti per fargli passare appunto il... poi sono passati comunque gli anni, l'azienda si è affermata. Nel 2009 è subentrato Andrea Piva, che è l'amministratore delegato, il presidente di questa società, che è un professore universitario abbastanza noto di Bologna, che gli ha dato quell'impulso proprio nella caratterizzazione internazionale, di multinazionale. E' quello che ci inorgoglisce, un po' come italiani, che le nostre aziende, anche in settori forse affollati, ma neanche vero, siano anche forti e riconosciuti a livello internazionale. Infatti con l'amico Richard nel chiacchierare gli ho chiesto ma portiamo la testimonianza tua che frequenti l'estero, un po' come ci vedono, come vedono in Italia, soprattutto l'Italia che produce alimenti zootecnici. Per poi gli voglio chiedere altre cose. Grazie Richard. Grazie a te. Quindi come vedono un'azienda multinazionale italiana anche in mercati complicati come possono essere gli Stati Uniti? Che percezione hanno di noi? Tu che li frequenti. Guarda, ormai siamo quasi dieci anni direttamente presenti sul mercato degli Stati Uniti. Il fatto di essere un'azienda italiana non è un problema, anzi la meccanica, lo stile, l'agri, il settore agri industriale, il cibo italiano è sempre stato riconosciuto come di alta qualità e quindi questo è sicuramente un fattore che gioca a nostro favore. La cosa importante per affrontare un mercato come quello statunitense è quello di dimostrarsi un'azienda solida, di non essere un'azienda meteora che passa e va, quindi presentarsi con dei dati concreti, dimostrare che i prodotti siano validi e mantenere un'appropriata presenza sul campo anche attraverso l'assistenza tecnica e prove scientifiche. Quindi tu frequenti anche gli allevatori americani, ma sono così diversi dai nostri, Richard? Secondo me la cosa più diversa è l'aspetto della gestione economica. Le aziende negli Stati Uniti, ma come anche stanno diventando le aziende cinesi o le aziende dell'est Europa, Russia, in particolare sono delle vere e proprie aziende, si sono distaccate dall'allevamento familiare che viene portato avanti da più generazioni e che quindi in quello c'è forse una tendenza minore a valutare gli aspetti economici. Le aziende americane sono spinte direi quasi all'estremo sulla valutazione economica dell'efficienza degli animali in base al prezzo del latte e del costo razione. Vetagro ha su Rominanzi una sua rubrica sulla nutrizione clinica e funzionale, una rubrica molto seguita. Recentemente è stato pubblicato, scritto da Richard, proprio un punto della situazione del Sud America, di questa zootecnia a noi lontana, non tanto per rapporti commerciali, lontana anche come cultura, come mentalità. Ma è una zootecnia emergente questa, Richard? La tua esperienza? Preciso che l'articolo l'ha scritto il mio collega brasiliano, a lui tutti gli onori. Però il Brasile è sicuramente una figura emergente. Le produzioni, benché limitate rispetto a quelle che possiamo ottenere negli Stati Uniti o anche in Europa, stanno aumentando e segue il trend dell'aumento della richiesta di latte a livello mondiale. Sicuramente, pur essendo una nazione molto grande e molto estesa, penso che il problema principale che dovranno affrontare nel futuro sarà lo stress da caldo. La temperatura e il clima è cambiato. E quello sarà un problema che metterà a dura prova l'aumentare la produzione di latte, anche dal punto di vista della genetica degli animali. Senti, una curiosità, perché tu so che frequenti anche la Russia, che è un popolo vicino a noi per molti motivi, anche storici e culturali, lontana da noi perché c'è ancora un embargo, insomma ci sono dei rapporti complicati commerciali. E come è percepito? Cioè è presente molto la Vetagro in Russia? Cioè è un mercato importante? Allora, per la Vetagro la Russia è un mercato storico, direi da più di vent'anni. E' un mercato in crescita, perché comunque anche la Russia sta spingendo molto in produzione di latte. E' un mercato un po' diverso dagli Stati Uniti, è forse un mercato meno tecnico, dal punto di vista della preparazione dei tecnici, degli allevatori, però che sta crescendo molto e si sta evolvendo. Ci vai spesso, Richard? Ma io in Russia andavo spesso prima, poi adesso abbiamo dei tecnici nella squadra e quindi riusciamo a dividerci, però ogni tanto... E qual è il problema tecnico che sentono di più gli allevatori russi, secondo la tua esperienza? Ma adesso stanno puntando a un latte più di qualità, quindi il problema che hanno loro è la produzione di proteina, aumentare la produzione di proteina nel latte. Gli altri aspetti sono ancora la gestione delle materie prime, soprattutto i foraggi. Siccome hanno queste grosse strutture, dove sono ancora divisi tra agronomo, zootecnico, che spesso non vanno d'accordo tra di loro, e a volte la produzione dei foraggi in queste grosse aziende non è destinata tanto alla produzione per le vacche da latte, ma anche al consumo umano. E quindi c'è sempre un po' di lotta sulla qualità dei foraggi. Per concludere una battuta a questo punto della Cina, perché questa Cina che ci spaventa, si dice che la Cina è vicina, ma insomma a volte gli attribuiamo delle responsabilità che ne ha, però a volte sono anche sopravvivene. Come la vedi la Cina? Che traiettoria farà nella zootecnica da latte? Io vedo la Cina in forte aumento, anche perché magari è rimasta indietro per tanti anni, ma quando decidono di impiantare dei nuovi allevamenti utilizzano le ultimissime tecnologie e quindi sono a un livello nettamente superiore. Se dovessi paragonare i paesi emergenti con gli allevamenti storici italiani, forse noi siamo un po' rallentati dalla storicità, appunto da questa familiarità, dalla tradizione, e facciamo fatica a ricominciare da zero. Quindi questo secondo me è l'aspetto peculiare. Bene Richard, ti ringrazio di questo flash di informazioni. A questo punto ci prepareremo ai festeggiamenti del quarantennale nel 2022 di Vetagro. Ti ringrazio e alla prossima occasione. Grazie a te, arrivederci.